La sezione Zanon De Ganuti La sezione Zanon De Ganuti organizza tutti gli anni giornate di propaganda come quella che stiamo facendo oggi tra le quali io, lei, qualche altro incaricato passa per le classi a parlare del dono del sangue e cosa fa? Fa le giornate di prelievi collettivi Allora ragazzi, cosa fa la FDS Zanon De Ganuti da 40 anni? Alcuni ragazzi della sezione Zanon hanno deciso di fare qualcosa di concreto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti